Musica Crisi energetica, Unione Europea verso il taglio obbligatorio ai consumi di elettricità, rinviata ogni decisione sul price cap, il gas ritraccia sui 190 euro. Accordo in Senato sul decreto aiuti bis, si sbloccano 17 miliardi di aiuti a famiglie e imprese, si semplifica l'iter sul super bonus, giovedì il via libera definitivo alla Camera. Per la rubrica le voci della politica, oggi al TG News le dichiarazioni di Carlo Calenda per il terzo polo, Matteo Salvini per il centro-destra e Dario Franceschini per il centro-sinistra. Kiev contrattacca, la guerra russo-ucraina entra in una terza fase, le truppe di Mosca in ritirata ad est, Draghi sente Zelensky, negoziati ancora lontani. Buone notizie dal mercato del lavoro, nel secondo trimestre il tasso di occupazione cresce di mezzo punto al 60,2%, forte calo dei disoccupati, 97 mila e meno, diminuiscono anche gli inattivi. Buonasera, l'Europa si prepara all'inverno, oggi la Commissione UE si è riunita a Strasburgo per valutare nuove misure di contrasto al caro energia. Bruxelles si appresta a varare un primo pacchetto di provvedimenti, mettendo sul tavolo la tassazione sugli extra profitti per le multinazionali dell'energia, il contributo di solidarietà temporaneo da parte delle società che lavorano i combustibili fossili e la riduzione della domanda di elettricità, con un taglio obbligatorio ai consumi, almeno nelle ore di punta. Ma l'attenzione è rivolta alla giornata di domani, quando la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, terrà il suo discorso sullo Stato dell'Unione alla plenaria dell'Europarlamento, illustrando le proposte sull'energia. Inoltre è stata convocata per il 30 settembre una nuova riunione straordinaria del Consiglio Energia UE, sul tavolo presumibilmente anche la questione del price cap. Intanto, Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nel nostro paese, ha reso noto che nel mese di agosto gli italiani hanno consumato complessivamente circa 26 miliardi di kilowattora di energia elettrica, il 2,6% in meno rispetto allo stesso mese del 2021. Ma la crisi energetica continua a pesare sulle famiglie italiane, riducendone il potere d'acquisto. Secondo i dati pubblicati dall'Istat, infatti, a luglio le retribuzioni sono cresciute su base annua dell'1,2%, a fronte di un aumento dei prezzi del 7,9%. Gli italiani sono a corto di ossigeno. Il 57% non riesce a pagare l'affitto, il 26% pensa di sospendere o rinviare il pagamento e guardando la bolletta di luce e gas, un italiano su tre entro Natale potrebbe non coprire più le spese per le utenze. La lancetta dei rincari per abitazioni e utenze mai così alti dal 1980 torna indietro di 40 anni e cresce la povertà. La perdita media del potere d'acquisto delle famiglie per l'anno in corso è stimata in 2.300 euro e i cittadini sono già in clima di austerity. La sforbiciata riguarda le grandi spese per l'auto, gli elettrodomestici o una nuova casa, ma anche per i consumi quotidiani. Quasi 7 italiani su 10 hanno già avviato una spending review, mentre il 17% è intenzionato a farlo in autunno. Niente compromessi a tavola però, sono 24 milioni e mezzo di italiani che dichiarano nei prossimi mesi di non essere disposti a rinunciare alla qualità del proprio cibo, se mai alla quantità. Lavorare non basta più, l'Italia è anche il fanalino di coda tra le principali economie europee nel rapporto fra costo della vita e stipendi medi. Veniamo alla politica interna e alle misure adottate dal governo per contrastare gli effetti della crisi energetica. Si è sbloccato l'iter del decreto aiuti bis votato oggi al Senato dopo la riformulazione dell'emendamento sul superbonus. E' stato infatti raggiunto un compromesso in merito alla responsabilità di chi acquista i pacchetti di crediti fiscali. Si risponderà solo nei casi di dolo o colpa grave. Il DL aiuti bis, che contiene misure per 17 miliardi a sostegno di famiglie e imprese e che è ora atteso alla Camera per il via libera definitivo, deve essere convertito entro l'8 ottobre. Tuttavia il governo ha chiesto di accelerare i programmi dal momento che è già in arrivo il terzo pacchetto di sostegni da 12-13 miliardi sul quale si concentrano gli ultimi sforzi dell'esecutivo prima del voto del 25 settembre. La crisi energetica e le misure per mitigarne l'impatto su famiglie e imprese rimangono temi centrali della campagna elettorale. Per la nostra rubrica, le voci della politica, ascoltiamo le dichiarazioni di Carlo Calenda per il terzo polo, di Matteo Salvini per il centro-destra e di Dario Franceschini per il centro-sinistra. Quello che bisogna fare oggi, per quanto mi concerna, è molto chiaro. Bisogna fare il disaccoppiamento di cui tutti parlano, come se fosse una cosa semplicissima. Noi abbiamo proposto per primo tra energie, tra gas con cui si produce il 40% di energia elettrica e rinnovabili non contrattualizzate, perché quelle contrattualizzate non si può fare. E comunque bisogna pagare gli indennizi. Quello che serve sono circa 15 miliardi di euro per appiattire il costo dell'energia per le imprese. Ed è per questo che la mia linea è molto chiara. Se il governo li ha, io credo che ne abbia circa 12-13, benissimo. Se il governo non li ha e deve mettere 3 miliardi di scostamento, lo deve fare. Non perché io sia a favore degli scostamenti di bilancio, perché non lo sono, ma perché costerà molto di più dopo intervenire in termini di cassa integrazione, in termini di sussidio di soccupazione, in termini di reddito di cittadinanza. L'importante è che la guerra finisca il più possibile e che le sanzioni non mettano in ginocchio le aziende e i lavoratori italiani. Quindi chiediamo protezione, vogliamo proteggere il popolo ucraino, l'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo sempre votato, qualsiasi norma, però chiediamo di proteggere anche i lavoratori italiani, perché questi costi di luce e gas rischiamo una strage di costi di lavoro. Le persone hanno buoni motivi per essere sfiduciati, hanno di fronte un autunno complicato, le bollette che crescono, le difficoltà ordinarie, la crisi internazionale, la guerra in Ucraina e le sue conseguenze, e vedono una politica che anziché affrontare come doverose, come stiamo cercando di fare noi, seriamente i problemi, grida soltanto slogan, la destra sta facendo questo. Gli investimenti in cultura sono importanti, però se guardi i programmi, nei programmi loro non c'è praticamente nulla, è una cosa marginale, quindi è molto rischio, c'è il rischio che si torni indietro. E tagliare in cultura, oltre a far male alle anime, alle menti, fa male all'economia. Veniamo ora al fronte del conflitto in Ucraina, continua l'avanzata di Kiev, che annuncia la liberazione di quasi 6.000 km2 di territorio occupato. La guerra russo-ucraina entra così in una terza fase, che vede le truppe di Mosca in ritirata ad est, cedendo gran parte delle conquiste nei pressi di Kharkiv. Sul fronte diplomatico è ancora stallo sui negoziati. La Russia, dichiarato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev, richiede ancora la resa totale dell'Ucraina alle sue condizioni. Gli sviluppi della controffensiva sono stati anche al centro del colloquio telefonico di questa mattina, tra il presidente ucraino Vladimir Zelensky e il premier Mario Draghi, che ha nuovamente confermato il pieno sostegno del governo italiano alle autorità e alla popolazione ucraina. Ma torniamo in Italia. Buone notizie dal mondo del lavoro, il cui trend al momento risulta in linea con quello del PIL. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione è cresciuto di mezzo punto, raggiungendo il 60,2%. Sono ben 677.000 gli occupati in più rispetto allo stesso periodo del 2021, una crescita pari al 3%, che secondo l'Istat coinvolge non solo dipendenti a termine e a tempo indeterminato, ma anche gli indipendenti. Positivi i dati sul mezzogiorno. L'occupazione al sud sale del 2,6% più che al nord, che registra un più 1,8%, e più del centro, dove aumenta di 2,3 punti. Al contempo scende dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti il tasso di disoccupazione, che si attesta all'8,1%. Risulta in calo anche il numero degli inattivi, diminuiti su base congiunturale, di 121.000 unità. Per quanto riguarda nello specifico il lavoro giovanile, i provvedimenti adottati dal Governo per le assunzioni di under 35 hanno fatto registrare un incremento del tasso di occupazione tra i giovani al 44,2%, sebbene la gran parte delle posizioni sia a termine. Infine l'Istat ha tuttavia rilevato un aumento del tasso dei posti vacanti, che si attesta a livello più alto dal 2016 al 2,1% nell'industria e al 2,3% nei servizi. Continuiamo a parlare di lavoro e formazione, tematiche affrontate anche nel talk di Alice Channel che andrà in rete questa sera alle ore 21 su tutti i nostri canali web. Moderato da Antonio Enrico, il programma ha visto a confronto Maurizio Iperti, presidente di Low Jack e Mea, Luca Sisto, direttore generale di Confitarma, Alessia Taccogna, Search and Selection Specialist Area Education di G Group, e Alessandro Fusellato, managing partner di Grant Horton. Sulle professionalità più richieste in Italia per il mercato del lavoro marittimo e sulle possibili soluzioni per abbattere le barriere in ingresso al settore, ascoltiamo le parole di Luca Sisto. In questo momento noi soffriamo la mancanza sia di ruoli superiori sia paradossalmente di ruoli inferiori. Sono due dinamiche completamente differenti però. I ruoli superiori sono specialistici, sono i direttori di macchina, l'ufficiale di macchina che veramente non abbiamo e mettiamo a rischio addirittura il complotamento della tabella di armamento di una nave che non può partire senza alcune figure professionali. Paradossalmente però, questo è stato, abbiamo vissuto il dramma della mancanza di figure invece iniziali. Parlo dei garzoni, dei piccoli di camera, dei baristi, della ristorazione di bordo. Un giovane che vuole affrontare le carriere marittime solo per mettere i piedi a bordo deve fare dei basic training course che hanno un costo tra i 1000 e i 1500 euro. Quindi c'è subito una barriera all'ingresso di carattere economico. Qui io dico, ma perché non si può immaginare un finanziamento pubblico per l'ingresso delle categorie iniziali del mare? Secondo me è un atto dovuto. Vediamo ora i dati dell'export in riferimento alle ripartizioni territoriali nel nostro paese. Nel secondo trimestre dell'anno le esportazioni hanno registrato un incremento congiunturale diffuso con un picco per il sud e le isole che hanno segnato un più 12,9% sul trimestre precedente. È quanto emerso dalle stime dell'Istat che ha rilevato nei primi sei mesi dell'anno una dinamica altrettanto positiva per quasi tutte le regioni italiane. A registrare gli aumenti più marcati ancora il mezzogiorno e le grandi isole con una crescita tendenziale dell'export del 71,8%. Cambiamo argomento e parliamo di fisco. Il fisco scade il 30 settembre, il termine per inviare è il 7,30%. Quest'anno diventa ancora più semplice per gli italiani inviare la precompilata online in autonomia. Rush finale per i cittadini per poter arrivare in tempo all'appuntamento con il 7,30 compilato. Il 30 settembre scadono infatti i termini per inviare con un semplice clic alla dichiarazione predisposta dal fisco, che a distanza di sette anni dal suo avvio è diventata via via più semplice, con sempre più dati già caricati dal fisco, permettendo al contribuente di gestirli in autonomia. Davanti i cittadini hanno dunque meno di tre settimane, ricordo l'agenzia delle entrate per consultare la dichiarazione predisposta dal fisco, modificarla o accettarla così com'è e premere il tasto invio. Coloro che nei mesi scorsi hanno già visualizzato e eventualmente integrato il modello lo troveranno salvato e pronto per il clic nella propria area riservata. Quest'anno, con 1,2 miliardi di dati già caricati dal fisco, i modelli sono ancora più completi. I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie per la casa e quelle sostenute per la scuola e università dei figli e molte altre. Da quest'anno, inoltre, chi ha difficoltà di accedere in prima persona al servizio online può autorizzare un familiare o un'altra persona di fiducia a operare per il proprio conto nell'area riservata del sito dell'agenzia. La dichiarazione accettata senza modifiche infatti esclude i controlli sulle spese che danno diritto a bonus fiscali. Veniamo ora al clima, l'autunno è alle porte dopo la stagione estiva caratterizzata da temperature africane. Nel weekend è previsto l'arrivo di fredde correnti dal nord Europa. Domani al nord i primi temporali, mentre da venerdì le condizioni meteorologiche peggioreranno anche nel resto del paese con un deciso calo delle temperature. Sul fronte del cambiamento climatico, intanto, sono 16 punti di non ritorno individuati da una ricerca pubblicata su Science che potrebbero verificarsi nei prossimi anni se la temperatura globale continuerà a salire. Dallo scioglimento improvviso e diffuso del permafrost allo stop della corrente marina del Labrador fino alla quasi completa scomparsa delle barriere coralline. Sono alcuni dei più probabili tra i 16 e i 20, senza ritorno, che potrebbero innescarsi se la temperatura globale dovesse superare di 1,5 gradi quella del periodo pre-industriale. A tracciare questo scenario è la ricerca pubblicata sulla rivista Science basata sulla revisione di oltre 200 articoli scientifici a partire dal 2008. Coordinati da David Armstrong McKay dell'Università Britannica di Exeter, i ricercatori identificano 16 eventi critici veri e propri punti di non ritorno che potrebbero verificarsi nei prossimi anni se le temperature continueranno a salire. Di questi eventi irreparabili, 5 sono indicati come molto vicini. Se la temperatura globale dovesse superare di 1,5 gradi quella del periodo pre-industriale usata come riferimento negli accordi internazionali come quelli di Parigi, potrebbero sciogliersi le piattaforme di ghiaccio della Gorelandia e dell'Antartide occidentale, le enormi aree di permafrost nordamericane, la corrente nel mare del Labrador e gran parte delle barriere coralline tropicali. Tra i 2 e 4 gradi invece di aumento perderemmo altri meccanismi cruciali che regolano il clima, come quelli che generano le piogge torrenziali nel Sahel e in qualche modo limitano la desertificazione a sud del Sahara. Mentre oltre i 4 gradi perderemmo definitivamente anche tutti i ghiacci antartici e la corrente atlantica. A livello globale la temperatura del pianeta ha già superato di un grado, quello del periodo pre-industriale. Continuiamo a parlare di ambiente. L'Europa loda le iniziative dell'Italia a volte a promuovere l'economia circolare, ma chiede interventi supplementari in materia di rifiuti, zone protette e qualità dell'aria. Gestione dei rifiuti in campagna, discariche illegali e irregolarità su fogne e depuratori nelle aree urbane. Queste le tre infrazioni alle norme ambientali UE per cui l'Italia negli ultimi anni è stata condannata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea a pagare le multe costate finora oltre 620 milioni di euro. E continuerà a pagare fino a che le violazioni non saranno completamente sanate. La fotografia della situazione l'ha scattata la Commissione Europea nel suo rapporto sullo stato di attuazione della legislazione ambientale nei paesi dell'Unione. Nel documento l'Italia viene bocciata sui rifiuti, sulla qualità dell'aria e sulla designazione delle zone protette Natura 2000. La penisola è invece promossa per quanto fatto per promuovere l'economia circolare e mettere a punto i piani per i bacini idrografici. Le multe che vengono pagate dall'Italia sono legate a infrazioni che hanno storie ultradecennali. Il caso delle discariche illegali iniziò nel 2003 e si chiuse nel dicembre 2014 quando la Corte dell'Unione Europea decise per la multa. Forfè di 40 milioni più 43 ogni sei mesi, con sconto per ogni discarica messa a norma. Tuttavia Bruxelles ha avviato altre multe nel 2009, 2014 e 2017. Sul caso Campania, infine, iniziato nel 2007, la Corte nel 2015 decise per una multa da 20 milioni una tantum 120 mila euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione delle misure richieste dalla sentenza. I progressi ci sono stati e proseguono, spiega la Commissione, ma servono interventi supplementari. Veniamo ora alle ultime notizie sul Covid. Nei primi due anni di pandemia sono almeno 17 milioni gli individui in Europa ad aver sofferto di Long Covid ed è possibile che milioni di altre persone debbano conviverci ancora per molto tempo. La stima è stata resa nota oggi dall'OMS, secondo cui inoltre le donne avrebbero una probabilità doppia rispetto agli uomini di sperimentare la sindrome post-infezione. Intanto nel nostro paese Omicron si conferma la variante dominante. Il Covid in Italia ha i connotati di Omicron al 100% e la sua sottovariante BA.5 supera ormai il 90% dei casi. La mappa dell'evoluzione dell'epidemia in Italia è contenuta nel report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità. Ormai BA.5 è ampiamente predominante, con una prevalenza a livello nazionale pari a 90,8%. La prevalenza di BA.5 è elevata in tutte le regioni, con un range compreso tra il 76,5 e il 100%. Nel report si riferisce anche di un significativo aumento della numerosità dei sottolineaggi di BA.5 circolanti nel nostro paese. In diminuzione BA.2 e BA.4. Centaurus, che invece aveva destato preoccupazione, resta sotto controllo, pochi casi nonostante circoli in Italia da circa tre mesi. E anche gli ultimi dati riferiscono che questa variante è meno contagiosa e meno pericolosa della Omicron 5. Uno studio dell'Università di Sassari in collaborazione con l'Università Campus Biomedico di Roma e il Dipartimento di Scienze Biochimiche della Sapienza Università di Roma, fa emergere che Centaurus presenta una capacità di evolversi ed espandersi inferiore a quella della variante Omicron 5. Una gestione della rete europea e del trasporto ferroviario di merci che renda più fluida la filiera logistica e più capillari le linee regionali. Alla via, per un valore complessivo di circa 570 milioni di euro, i sei grandi progetti pilota per attività di ricerca e innovazione ferroviaria. Il programma riguarderà inoltre i lavori per l'automazione, la digitalizzazione delle operazioni ferroviarie, aumentandone la capacità e sviluppando regole comuni per incrementarne l'efficienza. Era questa l'ultima notizia della giornata, grazie per l'ascolto, appuntamento a domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News.